L'iniziativa delle giornate FAI è per noi molto importante perché è uno di quei casi in cui l'università assolve a quella che viene chiamata la terza missione, cioè il compito che ha il nostro Ateneo, che hanno gli Atenei, di diffondere cultura presso la comunità e di cooperare anche alle iniziative che permettono uno sviluppo della comunità locale e del territorio. Quindi siamo molto contenti di poter aiutare il FAI con la sua principale attività di autofinanziamento delle giornate, anche perché questa è per noi l'occasione per far conoscere a un pubblico più ampio quello che è l'eredità storica su cui la nostra università, che è relativamente giovane, può fondarsi. Noi infatti abbiamo sede in un sito che ha ospitato per circa 150 anni delle attività manifatturiere molto importanti e ci piace in queste giornate poter mostrare al pubblico come la nostra università attraverso il progetto di Aldo Rossi si innesti su quella che è una tradizione molto più antica e quindi come le nostre attività che sono rivolte al presente e al futuro dello sviluppo economico in qualche modo abbiano delle radici molto solide in quella che è la tradizione manifatturiera della nostra zona. Grazie a tutti! Grazie a tutti!